La vita è un pò che è la Comunità di Tutti Di apple, in cui si fanno parlato di U.S. Qu'è la Prima di Tutti? Dove? A quanto lo fanno a prenditi, da tutti? A 200. Ora non si può cattare, ma non lo trovo mai. E' un bel Come fa Mele? Si, si è partecipato a Roma in quanto a Castiglione Guardate un bel, perché non vede così Oh, fanno solo un salto Sì, non ce l'ho più E' il drone Ma è il drone Ma è il drone Ma qua è il drone No vado in giro Ma stagge Sì, vado in giro Ma in giro Qualcuno disturba? Eh beh, ricordo non ho vero Come nemmeno.... I tartufi Oh ecco la qua Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.